Questo programma è presentato da Arena, Mia Arredamenti, Pavi System, Sambao Brazilian Sushi, Quirino Gabrielli, Big Mat. Buonasera da Pierpaolo Flamini, il diciottesima puntata di Ritmo di Samba ogni martedì alle ore 20 in diretta per fare il punto sul campionato dei colori rosso-blu che sta vivendo un momento particolare, forse a un punto di svolta, visto che quello che è successo nelle ultime settimane ne parleremo dettagliatamente, della partita di Tivoli, questo 2-2 che ancora una volta sta facendo molto discutere, sentiremo l'intervista a Siri, entreremo nel merito di quanto accaduto, cercheremo anche di conoscere qual è l'area che si respirava oggi pomeriggio al Samba Village, alla ripresa degli elementi con i servizi di Michele Natalini, affronteremo il tema del prossimo incontro, che è un incontro, non so se spartiacque, ma molto molto importante per il campionato della Samba contro l'Avezzano secondo in classifica, ascolteremo alcune parole che sicuramente faranno discutere del presidente dell'Avezzano Pecorelli, e infine ci occuperemo anche del tema del baladi con l'intervista alla sindaco Spazzafumo e dell'area Brancadoro con il progetto che si sta portando avanti da parte del main sponsor della Samba Sideralba. Insomma, tantissimi, tantissimi spunti, quindi andiamo di fretta con ritmo, ritmo di Samba, ma vi ricordo il numero col quale potete intervenire, 392-944-1132, già abbiamo ricevuto diversi messaggi che comunque saranno molto utili per affrontare tutti i temi di questa puntata. Ringrazio ovviamente gli ospiti di questa serata, un parterre molto variegato che ci consenterà sicuramente di parlare a dovere. Romolo Talamonti, tifoso sempre da Sangue Rosso Blu, tifoso super tifoso. Abbiamo anche una bella tribuna stampa che abbiamo allestito con giovinezza ed esperienza, Davide Balestra, giornalista della Nuova Riviera, e Roberto Oraneri, giornalista dell'Espresso Rosso Blu. Iniziamo intanto andando a rivedere i risultati dell'ultima giornata, la diciannovesima giornata del girone F della Serie D. Abbiamo detto il risultato della Samba a Tivoli, un 2-2 che poi andremo a sviscerare meglio nel proseguo della puntata. Una Samba che vinceva 1-0, c'è stata poi l'espulsione di Bontà, due gol presi nel giro di pochissimi minuti dopo l'espulsione e poi un dominio della partita, anche in 10, il gol nel finale di Martigniello su assist di Fabbrini. Poi abbiamo visto però che il Campobasso continua a vincere, anche se ha vinto contro l'ultima in classifica in casa, agevolato un po' dalla espulsione, un po' alla bontà potremmo dire di Galesio, alla mezz'ora che ha spianato un po' la strada nella ripresa ai Molisani. Non so se non è pronta la scheda, andiamo avanti. Ecco qui la scheda dei risultati, fanno Forse Emponese, Atletico Ascoli Termoli 1-2, Avezzano, Real Monte Rotondo 6-1, quindi un punteggio proprio tennistico in tutto e per tutto dei prossimi avversari della Sama, Campobasso Matese 2-1, L'Aquila Chieti 1-1, questa era la partita di cartello di questa giornata, un risultato che in qualche modo favorisce ulteriormente il Campobasso, ricordo poi che domani ci sarà il recupero tra Chieti e Atletico Ascoli, partita sospesa due domeniche fa per un infortunio all'arbitro, si riprenderà dal ventesimo minuto. Roma City, United Riccione 2-2, Soravasto Girardi 1-0, Tivoli Samba 2-2, e Senigallia Notaresco 0-0, anche questo un risultato che favorisce un po' la fuga del Campobasso. Andiamo a vedere la classifica, Campobasso 40, Samba, L'Aquila, Avezzano 35, quindi la Samba seconda, sempre seconda ma in ottima compagnia. La Vigor Senigallia 33, Chieti 31 ma domani appunto c'è il recupero, Roma City, Notaresco 29, Forse Emponese 26, poi parte destra della classifica, le squadre che stanno lottando per non retrocedere, per andare ai play-out, Sora 22, Riccione 20, Tivoli Fano 19, Tatico Ascoli 18 con il rigore di domani, Real Monterotondo, Bastogirardi, Termoli 17 e Matteise a 13 punti. Entriamo adesso nel vivo della puntata, prima del doppio passo di Michele Natalini, la vignetta satirica di Rossano Cocchieri che almeno strappa sempre un sorriso, anche in momenti più difficili, qui c'è un bontà trasformato in Camille, Bill Capille, la parodia di Marco Papa sui 300 e qui quando viene affrontato e lui dice sono pronto, sono pronto, presente, pronto a dare testate per lei, a chiunque mi capiti a tiro, strappa un sorriso e ci vuole anche un sorriso perché forse su quella vicenda si sta un po', forse anche parlando troppo, però è un argomento che affronteremo anche stasera ovviamente, tre punti ma sono anche ben tre le giornate di squalifica, poi vedremo, la Samba probabilmente farà ricorso e affronteremo anche questo tema. Altro argomento comunque con cui ci piace iniziare questa puntata è il compleanno del Presidente Vittorio Massi, che è proprio quest'oggi, 59 anni, quindi tanti auguri, ovviamente questo è il post della Samba, auguri Presidente, più che un Presidente un uomo, facciamo i migliori auguri, non era presente a Tivoli per alcune questioni personali, forse sarà presente domenica o magari nel proseguo, ma ovviamente se noi siamo qui a commentare questo campionato, gran parte dei meriti sono attribuibili a Vittorio Massi. Andiamo adesso con il doppio passo di Michele Natalini, che ci introduce veramente nel cuore di questa puntata. Un mese e mezzo fa, mica una vita, Samba padrona quasi in scioltezza, poi ci scappa il primo inciampo nella tana dei lupi, e da lì altra storia. Il campo basso dà 10 punti in 6 partite, rosso-blu marchigiani, lo sappiamo, colpa del dicembre nero, due pareggi in quattro giornate. È bastata un'altra X, il 2-2 di Tivoli, per aprire una voragine, dal più 5 al meno 5, perché nel frattempo i molisani hanno lasciato le briciole, 16 punti timbrati dalla squadra di Pergorizzi, con 5 vittorie e un pari, 6 quelli da serie compatti. Cavilli esoterici, gol nel finale, 13 episodi da Moviola, da notarisco di metà novembre in avanti, il paio di blackout, ovvero i due gol in un minuto subiti con l'atletico Ascoli, e il paio di domenica in 180 secondi. Insomma, per un motivo o per un altro, la Samb non riesce a tradurre in concreto la superiorità, spesso schiacciante, mostrata per lunghi tratti delle gare. Non può più essere un caso. I troppi gol subiti, 19, il successo che in trasferta, manca dal 28 ottobre, il nodo portiere, gli incastri under, i cali di concentrazione, e i colpi di testa, come quello di Bontà, tre giornate di squalifica dopo l'espulsione di Tivoli per l'ex Gubbio, a rivederci a metà febbraio, oltre alla multa del club. E il punto è pure che adesso la squadra di Mister Lauro, il solito caprio espiatorio per una larga fitta di ambiente, tanto che oggi ancora voci infondate sul suo esonero, sente il fiato sul collo della concorrenza. L'Aquila e Vezzano, rispettivamente 8 e 5 punti sotto, a fine novembre hanno agganciato la Samba. Domenica sfida proprio i marsicani, mancano 15 partite alla fine, fanno 45 punti disponibili, ma questa vale già un bel pezzo di stagione. Lasciare andare il campo basso e una rivale, oppure rimanere attaccati all'osso molisano, riaccompagnare sul ceglio del patibolo Mister Lauro, o invece concedersi una buona dose di camomilla. Sta alla Samba e un po' anche ai tifosi e alla piazza. Grazie Michele Naterini, sempre puntuale e preciso. Inizio dalla tribuna stampa, inizio da Roberto Ranieri. Un tuo commento su questo momento della Samba, su questa partita di Tivoli, sui sei punti in sei partite. Allora, diciamo subito che la partita è stata una partita molto bella, al di là di tutto molto emozionante, con tanti colpi di scena. Naturalmente sono due punti persi, perché dopo quel brutto finale del giorno di andata, con due punti in quattro partite, io pensavo, speravo, volevo, che la Samba ne ottenesse sei, fra Sora e Tivoli, che fanno parte della parte destra della classifica. Purtroppo non è successo. Partita condizionata dall'espulsione di bontà. Vorrei dire una cosa, relativamente all'espulsione, io mi sono rivisto tantissime volte le immagini, posto che bontà non può essere diventato improvvisamente così matto da reagire in quella maniera lì, un giocatore di 33 anni che ha una lunga militanza, a parte che durante le dinamiche della partita può succedere di tutto, però io ho visto che quando bontà ha dato la testata, il giocatore della Tivoli non è caduto immediatamente, ha avuto il tempo di allungare le mani e quasi di reagire, dopodiché improvvisamente gli ha preso una sincope ed è caduto per terra. Però questo fa parte, diciamo, di quella sfera calcistica, cioè lo vediamo spesso, però bontà non deve cadere in questi tranelli. bontà non ha nessuna giustificazione, però l'arbitro che stava lì qualcosa di meglio poteva vedere. Secondo me il giocatore del Tivoli è stato condizionato dal fatto che l'arbitro fosse proprio lì davanti e quindi una piccola scena... Che lui prende la testata, risponde e poi cade. Allora, io avrei ammonito anche il giocatore della Tivoli. Qui proprio si vede bene, quello che dici è perfettamente corretto, addirittura qui c'è Tomassini che va a sincerarsi con il portiere che non si sia fatto male. È corretto, però bontà appunto. Non è significabile, però... E questo lo chiedo anche a Davide Balestra. Tre giornate per questo gesto? La Samba domani deciderà ufficialmente, ma probabilmente farà ricorso. Tre giornate a me sembrano sinceramente eccessive. Non ha dato un pugno stendendo a terra l'avversario. Insomma, ha dato un piccolo colpo con la testa senza... Insomma, tre giornate mi sembrano troppe. O sbaglio io? Allora, intanto in primis, come avevi aperto tu la puntata, rifaccio le augure anche io al presidente Vittorio Massi, che ho avuto già modo di rifargli oggi, però per quello che ha fatto e sta facendo mi sento in dovere quasi di rifargli. Sul numero di giornate, guarda, ne stavo anche parlando prima in realtà, perché una chiaramente non sarebbe mai stata corretta, visto che è un gesto anche violento. Tre, ma chissà anche sbirciando un po' ciò che è stato pubblicato dal giudice sportivo. Ci sono state anche sanzioni di tre giornate per situazioni molto diverse. E quindi io, ecco, come dicevo anche prima, due sarebbe stato forse più corretto, al di là degli avversari che si andranno ad affrontare, perché già che un giocatore come Bontà salta la sfida di Avezzano, è un gran peccato. Poi per carità, chi c'è in panchina sicuramente saprà sostituirlo al meglio. Quindi penso a Barberini, ma penso a qualsiasi sia la scelta di Mister Lauro. Però da un giocatore della sua caratura, della sua esperienza, anche insomma di quello che può dare a livello di carisma, personalmente non mi aspettavo un gesto del genere. E soprattutto anche, magari, con un po' più d'attenzione, si può vedere come i Tomassini successivamente, a aver visto le condizioni del portiere, sbraccia verso Bontà, gli dice, ma dovevi proprio farlo, era proprio necessario. Vedi, vedi, che adesso va proprio a colloquiare con quel centrocampista. È un po' un peccato. Esatto. Ecco, è un po' un peccato, però insomma io resto della stessa filosofia del Mister, per quanto poi possano essere frasi di circostanza, chi sarà in campo, so e mi auguro che possa sostituirlo al meglio. Andiamo qui invece, andiamo all'angolo del tifo. La tifoseria in questo momento, c'è una parte che crede che il campionato sia finito, che in questi cinque punti, poi vedremo bene l'andamento tra Samba e Campobasso, cinque punti di vantaggio, trasformati in cinque punti da recuperare, e l'andamento del campionato sarà questo fino alla fine. Tu che ne pensi di questo, e cosa c'è che non è andato come previsto? Allora, se noi andiamo a guardare indietro, è normale che il primo cammino, quello iniziale della San Mertese, è stato molto bello. Quindi andando a paragonare alle ultime partite, ai risultati, è normale che sia pessimistici. Ma i grandi numeri, e tutte le statistiche, ovviamente non si può considerare un campionato chiuso, cinque punti dietro. Quindi questo assolutamente no. dovrebbe far parte e deve far parte di una mentalità che va cambiata proprio sia dalla squadra che anche dalla parte dei tifosi. Cioè non si deve mollare mai. E quindi questo è un po' quello che io penso. Poi che cosa c'è stato? Io sinceramente quest'anno, dopo tanto ho rifatto l'abbonamento alla San Mertese, grazie anche a quello che ha fatto il Presidente, e quindi quello che posso vedere è che una squadra che gioca così non si vedeva da tempo. Cioè specialmente in Serie B, io esperienza sul calcio non ce l'ho perché ho fatto tutto un altro tipo di sport. Però confrontandomi con amici, e anche quello che ho visto io in passato, cioè la San Mertese c'è un gioco veramente bello, cioè con palla a piedi, insomma palla a terra. Quello che manca probabilmente è il carattere a questa squadra, e bisognerà ricercarlo. Cioè chi di dovere lo dovrà ricercare. Però il carattere magari manca attrattato, cioè nel senso ci sono dei blackout, perché in dieci non era scontato. No, no, assolutamente. Questo secondo me dimostra, a mio parere, che la San Mertese, non voglio dire, per scaramanzia che sia la più forte, però è una squadra fortissima. È come quando si parla in casa, e si parla con gli amici, io lo penso tuttora. Sì, ci possiamo attaccare gli episodi, ma gli episodi bisogna farli girare a favore. Cioè bisogna parlare più di un discorso positivo che non della negatività che ci persegui da adesso, e più, ecco, bisogna fare attenzione come hanno parlato prima loro, e determinate reazioni, ma è normale, perché una squadra che non può arrivare alla forza della San Mertese, ovviamente la butta sulla provocazione. Anche perché, l'abbiamo detto poi domenica, loro avevano già due ammoniti per due falli su Battista, e uno dei due falli Battista ha preso un'ammunizione per un accenno di reazione. A Roberto Leneri volevo chiedere, è troppo bella questa Sam, cioè troppo propositiva per la Serie D? Ricordiamo che la squadra, ad esempio, di Palladini, le due squadre di Palladini che vinsero i campionati di Serie D non giocavano un calcio spettacolare, però vinsero il campionato. La Samba è la squadra più forte del campionato, questo non ci sono dubbi, la squadra tecnicamente più brava. Scorgevo prima di venire qui le rose del campo basso e dell'Aquila, soprattutto che ritengo le principali avversarie, non avevano quei giocatori di qualità e di nome che ha la Sam Mertese, che domenica ha dimostrato veramente un carattere notevole, perché giocare un tempo in mezzo, in dieci, subire due gol in tre minuti e ottenere il pareggio non è che fosse una cosa tanto semplice, tanto scontata. È una squadra che gioca bene, soprattutto che ha cuore. Ho visto in particolar modo due giocatori, domenica, Senegaliese e Battista, che veramente hanno dato l'anima, si sono spolmonati per ottenere il pareggio. Quindi, ripeto, è la squadra più forte, non ci gira molto bene in certe circostanze, però sono convinto che questa squadra può fare molto di più. Qui vediamo, questa è l'azione anche Fabbrini entrato, qui stava quasi per segnare. Comunque è un rincalzo, rincalzo, è un acquisto diciamo nel mercato di generale, quello che serviva, cioè un giocatore che può giocare anche dietro gli attaccanti in grado di saltare l'uomo e magari negli ultimi 20 minuti può fare la differenza. Però andiamo a vedere, abbiamo già parlato di Samba e Campobasso, di quello che è accaduto negli ultimi tempi, andiamo a vedere un po' una schermata che ci fa capire il diverso andamento tra le due formazioni. Ecco qui un avvio praticamente in parallelo, poi la Samba ha preso il primo posto, è arrivata a un margine di più 5. è stata sconfitta nello sconto diretto, con tante recriminazioni anche lì, perché c'era quel rigore con possibile espulsione su Alessandro abbastanza clamoroso. Da quel momento in poi la Samba ha fatto 6 punti in 6 partite, il Campobasso ne ha fatti 16, da meno 5 a più 5. e bisogna ricordare che da quando è arrivato Pergolizzi che ha sostituito Mosconi in panchina, Pergolizzi ha fatto 26 punti nelle ultime 10 partite, 33 nelle ultime 14, quindi un ritmo impetuoso che se dovesse continuare per essere il campionato ovviamente non ci sarebbe partita con le altre squadre. domenica a Capobasso ospita l'Atletico Ascoli impegnato nel recupero infrasettimanale e fra due domeniche ci sarà l'Aquila Campobasso. Secondo voi la Samba ha la forza per recuperare questo Campobasso? Assolutamente sì, perché quello che è stato fatto nel giorno dell'andata non è frutto del caso per quanto mi riguarda. Poi certo c'è stato il periodo quel dicembre nero due soli punti condite da prestazioni anche lì per quanto mi riguarda ribadisco nel complesso positive perché io credo che sia arrivati praticamente a metà gennaio dove l'unica partita veramente dove la San Benerettese ha faticato e ribadisco per la terza volta con il mio pensiero personale è quella contro il Bastogirardi dove probabilmente non avrebbe nemmeno meritato di vincere. Poi un gol di Tomassini la gara sporca sporchi, brutti e cattivi e in quel caso forse la San Benerettese non avrebbe meritato la vittoria però io credo che riprendendo la marcia togliendo Tivoli cancellando Senigallia tutte quelle gare insomma dove i tre punti non sono arrivati chiaramente mettendo anche quel pizzico di fortuna che comunque non guasta mai in modo tale che il campo basso possa un attimino rallentare la corsa e poi comunque concludo c'è sempre quel famoso trittico di cui si è tanto parlato nel girone d'andata che comunque dovrà ripassare da Riviera perché qui a San Benedetto si giocherà contro il Chieti si giocherà contro l'Aquila l'Avezzano giocherà a Riviera e probabilmente non viene menzionato troppo questo fattore però insomma giocare all'Angelini con tutte quelle situazioni arbitrali giocare a campo basso con Persichini che segna 5 minuti a campo basso giocare ad Avezzano dove abbiamo pareggiato 2-2 a San Benedettese con un rigore anche lì e i genitori Zoboletti insomma lì poi c'è errore tante recriminazioni sì quello sì certo però voglio aprire un altro un altro e qui voglio voglio far parlare il tifoso Romo della Monti poi vedete scorrere tanti messaggi molti chiamano in causa l'allenatore Lauro la tifoseria è divisa su Lauro che prima di Natale diciamo è stato discusso è stato riconfermato ottima prestazione contro il Sora e poi questa partita un po' strana a Tivoli qual è il sentore tuo o della tifosità sull'allenatore il discorso sull'allenatore sarebbe veramente semplice sparare a zero sull'allenatore perché ovviamente quando non arrivano i risultati e ripeto se uno aritmica cioè guarda i risultati vede che effettivamente nelle ultime partite San Benedettese sarà accolto molto molto meno di quello che in effetti vale ovviamente si punta il dito sull'allenatore io non non me la sento di giudicare anche se poi in privato qualcosina magari uno dice però allora è semplice ecco additare Lauro da fuori ripeto tecnicamente la San Benedettese gioca un calcio bellissimo ha questi minuti di blackout probabilmente probabilmente è dovuto dal carattere ma forse il mio il discorso di carattere intendo forse un discorso di concentrazione di 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 coesione che la San Benedettese non ha nel momento in cui entra in difficoltà cioè questa è una squadra che quando ha il momento di difficoltà diventa terribile cioè terribile e bastano due minuti anche a una semplice squadra di bassa classifica per fare due golle è come se non fosse abituato a subire il gioco degli altri in quei pochi minuti in cui questo avviene la scarsa abitudine porta a commettere l'errore che è sempre propositiva di fatto di dominanza assolutamente questo secondo me è un'attitudine è un'attitudine mentale che va che va data alla squadra chi la deve dare è l'allenatore punto interrogativo secondo me altro tema di cui si sta parlando ovviamente il tema del portiere Matteo Grillo ha 16 anni quindi nel 2024 ha portato la decisione di schierare Matteo Grillo Coco in panchina per avere Pietro Paolo in campo due prestazioni ottime del Pietro Paolo classe 2003 però la giornata praticamente non considerato 22 minuti in totale giocati Roberto Nalieri riconfermeresti Grillo cioè la situazione è abbastanza complicata perché se gioca Coco non potrebbe giocare Pietro Paolo a meno che non prenda il posto di un altro di un altro over secondo te domenica quale sarà la scelta e questo eventuale dubbio che ci stiamo ponendo adesso può fare del male alla squadra perché poi il portiere è un problema dedicato è tutto per questa dannata regola degli under che obbliga ad andare in panchina con le carte di identità per vedere chi gioca chi non gioca chi deve essere sostituito e obbliga gli allenatori a impazzire con questa regola a stare attenti ai cambi qualcuno paga poi le conseguenze come è successo con il Fano con la Forza Impornese quindi già partiamo da una regola completamente sballata perché io voglio vincere il campionato voglio prendere 11 campioni sono in grado come società di farlo e mi è impedito Grillo secondo me giocherà domenica giocherà perché gli è stata data fiducia perché metterlo fuori adesso sarebbe un delitto perché la difesa deve essere posizionata meglio per evitare che specialmente in casa gli attaccanti avversari si facciano facciano dei tiri da fuori come è successo domenica scorsa rimane comunque per me una considerazione da fare quando alla presentazione della squadra fino ad agosto fu diramata ufficialmente la rosa vedi Grillo come terzo portiere classe 2007 io pensavo che fosse il classico terzo portiere della Juniores che venisse impiegato in panchina quando o Pinto o Coco non potessero essere disponibili invece ho visto che in alcune occasioni Grillo è andato in panchina in 4 o 5 occasioni anche a Campobasso era in panchina quindi diciamo che se non è partito alla pari lo è quasi la scelta della società come di tutte le squadre della testa della classifica sono quelli di far giocare un under come sta facendo l'Aquila come sta facendo il Chieti che ha perso molti punti anche causa il portiere non giocano quindi più portiere la società ha fatto una scelta abbastanza chiara per cui deve andare avanti così anche se io se avessi conosciuto Grillo fosse a conoscenza delle sue capacità io l'avrei mandato una stagione intera a giocare a Montefano a Montegiorgio a Macerata a Giulianova dovunque sia in eccellenza in eccellenza avrei preso contatto con la società avrei fatto un accordo con la società fatemelo giocare 34 partite perché un portiere acquisisce esperienza solo giocando non negli annamenti un portiere completo deve uscire deve parare siccome il calcio in fondo è uguale da tutte le parti deve parare i palloni che gli arrivano un bel campionato in eccellenza da titolare l'avrebbe riportato qua per farsi le ossa per farsi le ossa e quindi anche lui probabilmente si sarebbe sentito un pochettino più sicuro Davide su Grillo ti chiedo di essere coinciso secondo te giocherà o la società di Lauro sta pensando eventualmente a rischierare Coco però in quel caso sarebbe sacrificato probabilmente Pietro Paolo a meno che non si faccia un centrocampo a Rigoni Scimia Pietro Paolo però ci vorrebbe poi un 2005 posso dire una cosa qualità perché siamo all'assurdo o gioca Coco o gioca Pietro Paolo un tempo si diceva ti ricordi o gioca Rivera o gioca Mazzola non possono giocare insieme potrebbero ma bisogna sacrificare nel calcio del 2024 non possono giocare insieme Coco e Pietro Paolo cioè dovrebbe giocare un centrocampo con Touret e con Pietro Paolo insieme secondo te io credo che ipotizzare oggi sia anche abbastanza difficile credo che sia un dubbio che verrà sciolto nei prossimi giorni perché comunque oggi anche Pietro Paolo avendo subito una botta nell'ultima partita quella contro il Tivoli non si è nemmeno allenato perciò non credo sia un dubbio che verrà sciolto nel breve però insomma io credo che addossare la croce a Grillo colparlo per carità c'è l'errore ma c'ha 16 anni perciò io qualsiasi sia la scelta di Lauro piena fiducia Grillo c'ha 16 anni d'altronde lo vediamo in Serie A che Donna Rumo un giocatore nel suo stesso ruolo è sordì alla stessa età perciò per me non c'è assolutamente problema posso giocare Grillo Grillo Coco poi chiaramente si perde Pietro Paolo che è una bella scoperta lì è un po' un peccato però credo che forse il problema sia un po' alla radice a quando quest'estate sono stati scelti due portieri della stessa età e lì la stessa età dei due under eventuali di certo campo e forse lì magari un 2004 un 2005 sarebbe stato più piazza e caldo però insomma è scelta di De Angelis quindi vediamo così va bene adesso qui vediamo l'occasione finale di Tommassini se entrava quella palla adesso staremmo parlando di una grandissima squadra con grandissimo carattere andiamo un attimo in pubblicità torniamo qui fra poco con tutti gli altri argomenti di cui vi ho accennato prima uno dei temi di discussione dopo l'espulsione di Bontà sono stati proprio i due gol subiti in tempo ravvicinato praticamente dall'espulsione di Bontà al pareggio è passato un solo minuto se ne è discusso tanto su eventuali possibili scelte alternative di Lauro ne parleremo fra poco intanto vediamo la carrellata dei 23 gol dell'ultima giornata di Bontà per il la caratteremo di Bontà Grazie a tutti 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 Grazie a tutti